La categoria di democrazia viene oggi impiegata a mo' di tranquillizzante per mostrare come in qualche misura siamo nel tempo di una democrazia generalizzata che si è finalmente lasciata alle spalle le tragiche esperienze che hanno colorato di lacrime e sangue il Novecento mediante dittature ai totalitarismi. Insomma la categoria di democrazia funge oggi come grande elemento ideologico di adattamento al presente e di glorificazione dei rapporti di forza di un mondo che pur non perfetto si presenta comunque come il migliore o come il solo possibile. E tuttavia è possibile mostrare, io credo, come pur nel quadro di questa odierna democrazia occidentale permangano molti, moltissimi elementi non democratici che anzi dovrebbero indurci a mettere in questione a problematizzare la categoria stessa di democrazia. Essenzialmente, sarò breve, sono tre gli aspetti che ci permettono di sostenere che nell'odierno quadro post 1989 l'Occidente che si definisce democratico in realtà è ancora ben distante dal potersi caratterizzare come una democrazia realizzata. In primo luogo non siamo in democrazia per il fatto che la democrazia comporterebbe la possibilità per il popolo sovrano di decidere sovranamente in maniera democratica della propria vita e della propria riproduzione collettiva. Oggi invece, come sappiamo, le decisioni ultime vengono rimandate ai mercati. Ce lo chiede il mercato. Il popolo può certo decidere democraticamente su singoli aspetti della propria vita collettiva, ma in ultimo le decisioni vengono prese dai mercati o in generale da quelle oligarchie non democraticamente elette né rappresentative della massa popolare che scelgono in maniera autocratica e non democratica come agire, cosa fare e quali decisioni prendere. L'odierno Unione Europea si regge esattamente su questo principio. Quindi il primo aspetto che ci induce a dire che non siamo in democrazia è il fatto che non è il popolo sovrano a decidere democraticamente della propria vita. In secondo luogo, credo che si possa dire che non siamo oggi all'interno di una democrazia in ragione del fatto che, soprattutto nel mondo post-1989, la differenza, la polarizzazione della società si è accentuata come mai prima d'oggi. La differenza tra il vertice e la base, tra i dominati e i dominanti, diremmo con Marx, tra il servo e il signore, diremmo con Hegel, è mai come oggi accentuata. La cosiddetta globalizzazione si caratterizza anche in effetti per la polarizzazione sempre crescente della società che essa produce. Sempre più la differenza aumenta tra i singoli stati e all'interno di ciascuno di essi. Sempre più i ricchi diventano ricchi e poco numerosi e sempre più i poveri diventano poveri e più numerosi. Si verifica cioè l'effetto previsto da Marx, la polarizzazione crescente ed esasperata della società, che permette evidentemente che i dominanti dominino in maniera sempre più radicale i dominati. Ciò che mette in discussione è la tenuta dell'assetto democratico, il quale assetto democratico implicherebbe invece un'eguale libertà dei cittadini, la possibilità di tutti i cittadini di accedere ai servizi primari e di decidere con egual peso nella vita pubblica. Terzo elemento, procedendo rapidamente in maniera necessariamente impressionistica, che ci permette di dire che oggi non siamo in una democrazia pienamente realizzata, è il fatto che, contrariamente a quanto solitamente si dice, l'elemento caratterizzante della democrazia non è il consenso. Il consenso infatti non distingue propriamente una democrazia da un assetto dittatoriale. Anche le dittature storicamente spesso si sono caratterizzate e contraddistinte per il consenso di massa a cui davano vita. A caratterizzare invece la democrazia dovrebbe essere, al contrario, il dissenso, l'accettazione del pensiero antagonista, l'accettazione del pensiero divergente. Democrazia sarebbe allora quella forma di governo che, a differenza delle dittature e dei totalitarismi, accetta il dissenso, vive di dissenso, assume il dissenso come costitutivo delle regole del gioco democratico, fondandosi di più sull'alternanza fra consenso e dissenso, sul gioco dell'agire comunicativo di un dissenso che favorisce la crescita democratica, favorisce lo sviluppola, il miglioramento della realtà. E quanto in fondo Spinoza nella modernità aveva messo a tema con la categoria di libertas filosofandi, tipico della democrazia e cioè l'accettazione della diversità di pensiero, della libertà di pensare e di dissenso su tutto. Oggi invece, tragicamente, nel tempo del pensiero unico planetario, assistiamo al restringimento costante che tende alla sparizione del pensiero divergente, sostituito dalla cappa oppressiva di un unico pensiero globalizzato che sanziona di fame e silenzia tutto ciò che non rientra nei suoi perimetri, utilizzando tutta una serie di categorie di una nuova neolingua di tipo orwelliano che impedisce anche solo la dicibilità di categorie alternative dissenzienti. Ciò che ci permette di dire ancora una volta che forse, prima di parlare a cuor leggero di democrazia oggi, bisognerebbe intraprendere una serie e spregiudicata riflessione critica sul tema e sui concetti.